Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. E sempre in direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. E sulla A15 l'area di servizio di San Benedetto in direzione Parma è sprovvista di GPL. Sulla A12 per traffico intenso ci sono code in uscita alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla FIPILI personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Livorno in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!